La notte la passai benissimo e la mattina mi venne l'angelo custode. Era contento. Mi disse che prendessi della carta e scrivessi quello che lui mi dettava. Ecco tutto. Ricordati, figlia mia, che chi veramente ama Gesù parla poco e sopporta tutto. Ti comando per parte di Gesù di non dire mai il tuo parere se non sei dimandata, di mai non sostenere il tuo sentimento ma subito cedere, ubbidire puntualmente al confessore e a chi lui vuole e senza replica. Nelle cose che tu devi farai una replica sola ed essere sincera con l'uno e con le altre. Quando hai commesso qualche mancanza accusati subito senza aspettare che te lo domandino. Infine ricordati di custodire gli occhi e pensa che l'occhio mortificato vedrà le bellezze del cielo. Così Santa Gemma Galgani.